La prima volta, ogni volta è la prima volta, la prima volta che doni, dona il sangue, la prima volta e per sempre. Mister, è una sconfitta che brucia tantissimo, soprattutto ai tifosi, ma anche a voi. Come si esce da questa situazione? Si esce attraverso il lavoro, attraverso le cose positive che abbiamo fatto oggi, attraverso la crescita della squadra. È normale che è una sconfitta che fa male per tanti fattori, ma siamo dei professionisti e dobbiamo alzare subito la testa per cercare di uscire da questa situazione. Comunque penso che la squadra abbia giocato, abbia creato, abbia subito, penso che sia stata anche equilibrata nelle due fasi. Dispiace aver perso questa partita su un errore di lettura di noi, abbiamo subito gol e poi abbiamo creato le quattro occasioni dove c'è stata la bravura di Brignoli e anche la sfortuna non ha fatto sì che potevamo pareggiare questa partita. Comunque nel contesto penso che la squadra abbia giocato, abbia lottato e abbia fatto sicuramente una partita completamente diversa dalle due che abbiamo fatto in queste due settimane. L'ingresso dal primo minuto di Palumbo e il tridente, Pettinari, Acqua Fresca e Falletti, ce lo motiva? Perché queste scelte? In scelte perché sono giocatori che comunque durante la settimana mi fanno vedere che stanno bene, la gumina mi rientrava a quanto riguarda gli altri attaccanti da un periodo di inattività, Monachello era stato fermo una settimana, mentre Acqua Fresca, Pettinari e Falletti sono giocatori che durante la settimana danno il massimo. Io avevo il dubbio di Pettinari-Palumbo, ho preferito andare su Pettinari. Erano le alternative di Noia e Pedriccione per quanto riguarda Palumbo? Sì, è normale che avendo Rossi fuori per l'infortunio che ha subito questi tre giorni fa, avevo il dubbio basso intanto di Germoni dove ha fatto benissimo e di Noia, però stesso discorso di Palumbo, Palumbo è un giocatore, un ragazzo che si allena tantissimo, si allena bene e penso che oggi abbia fatto una prestazione ottimale. L'ho sostituito anche perché era stato ammonito e rischiava il secondo giallo. L'ingresso di Di Noia è stato per fisicità perché il Perugia comunque mandava tanti giocatori a saltarinare sui piazzati, Di Noia a centimetri e dovevamo anche sopperire alle situazioni di Perugia e comunque a giocatori fisici importanti. Purtroppo da un errore di Di Noia che poi ha cercato anche di reagire, si è buttato in avanti, ha cercato la percussione, da un errore che ci può stare, ci mancherebbe altro, è nato il gol del Perugia e la Beffa è sull'unico traversone gettato in aria in tutta la partita da Del Prete e questo è un dato singolare che in qualche modo credo accresca anche la vostra amarezza, no? Ma sì, sicuramente. Noi dobbiamo migliorare sulla situazione singola perché comunque noi anche il primo tempo dove abbiamo subito le due occasioni di cross di Di Chiara al 46esimo e il tiro di Mustacchio sono stati due errori nostri e il gol l'abbiamo subito sull'errore di uscita di Noia. Bisogna migliorare anche in questa situazione, nella lettura, nel leggere le situazioni perché anche questo ti può permettere di sbagliare meno e soprattutto di raggiungere la salvezza dove sicuramente questa squadra merita. Mister, quando è uscito per i crampi Acqua Fresca che comunque ha lottato, ha corso, ha pressato, si è guadagnato qualche punizione, tutti ci aspettavamo l'ingresso in campo di Avenatti, anche per una questione morfologica, tra l'altro il Perugio giocava con i tre centrali. La scelta di inserire Monachello, come si motiva da questo punto di vista? Forse la volontà di dare la scossa ad Avenatti, di dargli una sorta di sferzata sul piano psicologico? Si motiva che l'allenatore guarda la settimana e Monachello mi ha fatto vedere un qualcosa in più sotto l'aspetto della voglia, della cattiveria e di tante situazioni, ho preferito a Monachello e non a Avenatti perché Monachello questa settimana per tante situazioni l'ho visto meglio di Avenatti, ecco tutto qui. Possiamo dire che per il buon impatto dopo il secondo tempo, perché per dieci minuti la Trennano ha giocato bene, ha alzato i ritmi, ha prestato alta e per le tre palle gol clamorose ha avuto dopo lo svantaggio, perché la reazione c'è stata, la sconfitta sia troppo punitiva? Sì, è una sconfitta che fa male per questa, perché comunque la squadra è stata equilibrata nelle due fasi, ha lottato, ha creato, è normale che vedendo tutte queste situazioni è una sconfitta che fa male, anche perché pare un derby, sapevamo l'importanza di questa gara, però sul contesto generale è una squadra che comunque sappiamo benissimo che deve lavorare tanto, deve lavorare tanto su tante situazioni, se vado a vedere la partita di oggi comunque dispiace per la sconfitta, ma comunque la squadra è in crescita. Nella mia modesta lettura della partita ho visto anche un falletto un po' troppo isolato, cioè cercava molto i compagni, infatti si sbracciava anche chiedendo palla e due folate offensive dell'Uruguagliano hanno quasi innescato il gol della Ternana, quindi non bisognerebbe un pochettino cercare di renderlo al meglio, cercandolo di stare più vicino ai due attaccanti. Il compito di Falletti, noi prepariamo le situazioni e Falletti è libero di andare anche fuori posizione avendo il centrocampista dietro dove lo protegge e lo copre, l'ha fatto a Spezia, l'ha fatto con il Cittadella dove eravate tutti d'accordo nella posizione e ha fatto anche gol. Io penso che Falletti, anche il secondo tempo dove è stato un giocatore determinante, è stato un giocatore importante partendo dalla posizione laterale. Falletti quest'anno ha giocato tante volte trequartista e non penso che abbia inciso tantissimo, a mio avviso per il mio modo di vedere Falletti è un giocatore che avanti può giocare da attaccante esterno, può giocare da trequartista sicuramente, al secondo tempo l'ho messo anche vicino a Monachello perché per dieci minuti si è messo con il 4-4-2. È un giocatore che a mio avviso nel discorso dei tre amanti non ha compiti perché comunque al centrocampista dietro che lo copre tantissimo è anche libero di giocare, di incidere come ha fatto il secondo tempo. Infatti forse era l'unico che poteva spaccare la partita? La partita poteva spaccare Palombi, la partita poteva spaccare Defendi con gli inserimenti, io penso che noi non dobbiamo guardare al singolo giocatore perché comunque tante volte ci potremmo mettere anche diversamente ma sappiamo benissimo che abbiamo un centrocampo che in questo momento qui per struttura deve giocare diversamente, dobbiamo dare più protezione a tre di centrocampo abbassando i due esterni e così mantiene l'equilibrio giusto. Se noi andiamo a guardare oggi le squadre che giocano con la 4-3, oggi la migliore squadra che gioca un grandissimo calcio è Napoli. Guardate Calleone, è in signe e questo vi dice tutto. Ecco, però è difficile fare dissertazioni tattiche dopo un derby perso, no? Quando lo scoramento ovviamente pervade la tifoseria. Però quella sorta di 4-5-1 del primo tempo in fase di non possesso con pettinari e falletti che si abbassavano sugli esterni ha dato equilibrio tattico. È vero che la squadra ha tirato in porta solo una volta con acqua fresca, però a parte gli ultimi 7-8 minuti del primo tempo non ha subito quasi nulla. Quindi sul piano tattico certi meccanismi hanno funzionato. La squadra è migliorata tantissimo sotto l'aspetto tattico. C'è stato il tiro di Robert acqua fresca il primo tempo, ma comunque siamo arrivati nei 16 metri, basta guardare quando siamo arrivati con il defendi, con il cross in aria e abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Qui si guarda spesso a tirare in porta. Noi ci siamo arrivati spesso sbagliando l'ultimo passaggio il primo tempo, mentre il secondo tempo siamo stati più cattivi. Noi dobbiamo continuare su queste situazioni, bisogna lavorare sui meccanismi, sull'equilibrio che questa squadra a mio avviso sta trovando e solo così puoi raggiungere la salvezza. Si gioca sempre nelle due fasi, non si gioca col singolo giocatore, ma si gioca al contesto di gruppo e penso che il gruppo in questo stia crescendo. È normale che dopo una sconfitta uno può pensare diversamente, ma il mio modo di vedere è la squadra in crescita e ha ancora margine di crescita. Mister, per concludere, la risposta sul piano tattico c'è stata. Sul piano caratteriale, dopo la bullica prestazione della Spezia, idem, ci sembra di intuire che non ci sia il rischio dello scoramento, ma che anzi la squadra, al di là di una classifica che è palesemente preoccupante, resti con la barra dritta del timone tutta protesa verso una salvezza, certo complicata, ma non impossibile. Noi facciamo un lavoro bellissimo dove dobbiamo gestire anche i momenti di difficoltà. In questo momento qui è un momento di difficoltà perché comunque ha perso una partita e sappiamo che partita abbiamo perso, perché comunque è una partita completamente diversa dalle altre. Io mi sono trovato in queste situazioni nel subentrare l'anno scorso e in passato gestire le situazioni difficili. È una squadra che deve lavorare sul discorso tecnico ancora, sul discorso tattico, sul discorso mentale perché dopo una sconfitta, ho detto il primo giorno, è normale che lavori diversamente. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere la salvezza e lottare fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata del campionato e bisogna solo lavorare anche sull'aspetto mentale. Grazie a voi.